Carissimi alunni delle classi seconde, eccoci qui ad imparare un brano nuovo. Il brano si trova a pagine 85 del volume A e si chiama Vola, Vola, Vola. E' un canto popolare a fese. Bene, adesso ve lo suono con la chitarra. Ça va. Sol sol mi fa sol fa fa, sol la la sol fa mi. Eccoci qua, metto giù lo strumento e poi ve lo scrivo. Bene, questo brano non ha grosse difficoltà, se non l'unica cosa che mi permette di segnalarvi e attenzione al ritornello che c'è all'ultima riga, quindi quella riga va ripetuta due volte e sempre all'ultima riga attenzione alla pausa da due quarti che c'è alla prima battuta. Dopodiché questo è un tempo, diciamo, ternario, è un brano in tempo ternario, quindi è il brano nel tempo di valse, il brano nella forma di danza per eccellenza, il tre quarti, prima abbiamo, precedentemente abbiamo eseguito il brano soprattutto in quattro quarti o in due quarti. Questo è un brano in tre quarti, quindi ha una sua particolare caratteristica, se vogliamo dire anche una sua piccola difficoltà, attenzione che quindi non conto più un, due, tre, quattro, ma cellule da tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Ecco qua, il brano è questo qua. Adesso ve lo canto, così perché vi facciate un po' un'idea su come, diciamo, vanno eseguite le note, e quindi adesso ve lo canto. un, due, tre. Mi, 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 re, mi, fa, la, sol, 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 mi, sol, 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 mi, 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 mi sol 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 si 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 la sol re mi mi sol sol mi fa sol fa fa sol la la sol fa mi eccoci qua sotto l'aspetto ritmico con il solfeggio cantato è molto più chiaro tutto il discorso io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando buono studio